Dopo il laboratorio per dare nuova vita alle biciclette, all'Istituto Professionale Marconi di Prato si pensa a quello per effettuare il tagliando alle macchine. Un sogno a cui il Preside sta lavorando, facendo i conti soprattutto con la mancanza degli spazi e la crescita costante delle iscrizioni. Qualora ci dovesse essere le necessità, pensavamo di fare anche dei colloqui orientativi con le famiglie, con i ragazzi, anche la famiglia, perché ci teniamo molto ad ascoltare veramente le motivazioni che i ragazzi hanno per venire a fare queste scuole così particolari. A fine mese, proprio per orientare i ragazzi alla scelta della scuola superiore, gli studenti di terza media, oltre a partecipare al classico Open Day, potranno iscriversi per la prima volta all'Open Lab. La prenotazione è obbligatoria perché i ragazzi stanno nel laboratorio proprio per quasi tre ore e quindi realizzano anche un piccolo prodotto, ovviamente in sicurezza, legato ovviamente a ragazzi di terza media, alle competenze di ragazzi di terza media. Intanto i laboratori a disposizione dei ragazzi aumentano con l'inaugurazione di officina meccanica Utensili 2. Qui si impara la realizzazione di pezzi cilindrici attraverso questi macchinari che si chiamano torni paralleli e qui loro appunto realizzano dei pezzi che si chiamano in termine tecnico degli alberi meccanici, quindi dei pezzi cilindrici per poi realizzare partivari sempre più complessi, sempre con una maggior più precisione e un grado di tolleranza sempre maggiore.